Se fossimo stati in un regime dittatoriale, avremmo anche potuto immaginare di capire quale mente eccelsa ha ideato e propinato la pedonalizzazione per Napoli, città che da millenni non sopporta le blindature e le claustrofobie municipali. Ma siccome siamo in democrazia, sembra strano che il primo cittadino, nonostante le furiose polemiche e critiche il suo dispositivo a foga commercio, continui a sostenere la validità della sua azione, quasi come si aspettasse il riverente, una protesta ancora più accesa, che renderebbe il tutto ancora più ridicolo agli occhi dell'opinione pubblica internazionale. Ed è molto probabile che il fondo lo abbiamo già toccato, con le serrate che i commercianti e i ristoratori stanno già operando contro una pedonalizzazione imposta dagli eventi, non certo dalle potenzialità catalane, millantate dal primo cittadino. Ma ciò che sta scatenando l'ira degli operatori del commercio è che Palazzo San Giacomo risponde al fuoco delle polemiche con l'istituzione di car parking in Miale d'Orna, al Maschio Angioino, come a dire che voi non guadagnate poco importa, l'importante è che si paghi la sosta. È molto probabile che al sindaco De Magisis, che stupido non è, qualcuno riporta circostanze ed eventi diversi dalla realtà dei fatti. A questo proposito sarebbe molto più costruttivo un incontro tra i tartassati e i tartassanti, almeno per capire finalmente il motivo per cui a Napoli il commercio deve morire.